cosa fare sell o hold di bitcoin bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo ad analizzare quelli che sono i mercati delle cripto soprattutto bitcoin perché ha fatto un super crash ragazzi anche troppo veloce aspettato atteso non atteso ni era atteso ma non in questo periodo forse nella prossima settimana invece i mercati hanno anticipato come sempre giù di corsa due giornate bruttissime relativamente ai mercati cripto e bitcoin sfonda la quota dei 50 mila dollari non ci sono particolari news relativamente a questo discorso ragazzi è totalmente decorrelato anche dai mercati gold perché i mercati gold sono stazionari in questo periodo quindi salgono e scendono ma in sostanza non hanno trend ma questo crash di ieri e anche oggi oltre a quello che era già avvenuto nella scorsa settimana porta il trend di medio periodo per quanto riguarda bitcoin cioè 12 mesi in territorio laterale negativo per la prima volta da un anno ragazzi bitcoin fa un ciclo mensile al ribasso lo vedremo oggi ragazzi perché è andato a rompere il minimo del 25 di marzo lecito quindi andare a chiedersi se fare sell oppure iniziare l'exit strategy iniziare la questione della vendita dell'old proprio per venirvi incontro vi avevo anticipato che nei nei video scorsi ragazzi quelli che sono stati che vi ho fatto appunto nel primo crash che rendevo pubbliche quelle che non le mie posizioni per un mesetto sul mio canale telegramma ragazzi ho iniziato a fare questa cosa un po a rilento perché chiaramente non sono preparatissimo nel pubblicare in maniera veloce ragazzi però ho pubblicato quelle che sono anche le mie posizioni lì ho notato che moltissimo c'è moltissimo interesse infatti il canale ha raddoppiato le iscritti vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda il canale telegramma è gratuito ragazzi e starò vicino a voi anche lì pubblicando costantemente quello che faccio per questo mesetto ragazzi molto spesso pubblicherò anche quello che dico anche in academy proprio perché se lo dico lì lo dico anche al canale telegramma allora è un modo da parte mia per starvi più vicino possibile in questa fase per chi ha magari delle preoccupazioni quindi trovate il link in descrizione lì ho già pubblicato che nella mia posizione hold io sono già all 80 per cento ragazzi ho già chiuso delle posizioni la scorsa settimana il 20 per cento dei miei hold probabilmente posso arrivare fino a un 50 per cento di chiusura l'altro 50 per cento non è prevista la chiusura della parte hold in questo momento poi se dovesse capitare insomma vedrò cosa fare ragazzi però al momento ho ancora da togliere diciamo così da chiudere il 30 per cento delle posizioni su bitcoin e vedrò più o meno come gestire questa cosa se ne vale la pena dove come quando ma comunque lo comunicherò lì ragazzi mentre le posizioni di media è stata è stata affidata a uno dei miei train system che è approvato un ingresso e poi è stato stoppato la posizione di breve la stessa cosa ma la posizione di breve diciamo a piccolissime diciamo quantità di bitcoin quindi diciamo non mi preoccupa quella che mi preoccupa la posizione hold ragazzi ok allora andiamo a vedere quello che il grafico settimanale oggi quindi analizziamo un po il grafico di lungo periodo o tre grafici da fare vedere anche uno l'ultimo quello di et h per farvi capire anche che cos'è la situazione di lungo periodo di bitcoin perché probabilmente siamo nella fase di chiusura del ciclo annuale ce l'aspettavamo lo scorso mese ha ritardato quanti sono venti giorni ragazzi ok per un annuale è praticamente il nulla quindi assolutamente va bene così però ancora non è detto che stia facendo una cosa annuale ragazzi perché potrebbe proseguire anche per il mese di maggio ok allora andiamo a vedere quello che il ciclo di lungo periodo di bitcoin e aggiorniamo un po tutte quelle che non le nostre previsioni intanto vi faccio vedere quella che la struttura del ciclo annuale riportata dalla rsi modificato e che vedete in maniera abbastanza chiara dal 8 di febbraio circa indicava che siamo che stavamo andando in una fase di possibile pericolo di cosa annuale ecco perché ho più volte detto questa cosa all'interno del canale ragazzi poi come sempre le fasi cicliche sono esattamente come avete visto quindi indicative da un punto di vista temporale ma poi i prezzi seguono a volte il ritardo a volte non seguono proprio quindi poi i trading bisogna farlo sempre sui prezzi ragazzi ok però questa indicazione abbastanza evidente ci stava ad indicare che il mercato se ne stava andando verso una close annuale probabile è avvenuta con il minimo di oggi no secondo me no ragazzi ve lo dico in maniera estremamente violenta e l'aggressiva ok no 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 ragazzi non è che potrebbe essere però significherebbe che il mercato è straforte secondo me non è così però vedremo nei prossimi giorni ok allora nel momento in cui andiamo ad analizzare questo grafico ragazzi ho spostato alcune strutture cicliche quello che evidenzia è che questa fase tecnicamente andrebbe prevista a metà maggio bar fine maggio quindi in teoria ragazzi questo è il primo movimento di break ribassista e poi dovremmo assistere ad una fase di eventuale recupero e chiusura di questa struttura ora vedremo anche i target vi faccio vedere anche i target di questa cosa per il video di oggi e per rispondere appunto alla domanda sell o holdo perché poi il problema di fondo per moltissime esattamente questo ragazzi quindi andare a capire se andare a chiudere posizioni o no allora questo è quello che in questo momento ci dice il grafico di bitcoin di lungo periodo poi ovviamente ragazzi lunedì faremo sempre l'analisi e punto della situazione dei mercati invece nel breve però ragazzi si sta appoggiando anche su una delle mie medie preferite questa è una media a 17 settimane nessuno solo io la uso solo io ragazzi ok 17 settimane così porta fortuna 17 ma non lo so comunque va bene allora nel momento in cui andiamo a fare questa questa analisi ragazzi questa è una media che mi piace però il mercato ci si è appoggiato oggi però non è detto che la mantenga a livello settimanale ve lo dico in maniera molto chiara probabilmente per questa settimana ha dato ma la prossima potrebbe tentare ulteriormente un aggiornamento dei minimi a dire la verità sono un po indeciso sulla prossima ragazzi anche per questo sto gestendo un'operazione in by the dips estremamente pericolosa però ragazzi quello è trading vero quindi sono accumuli poi esco a differenza di ore quindi è impossibile pubblicare queste cose nel canale lo dico in academy ne parliamo in academy perché siamo costantemente aggiornati ma non è possibile farvi vedere quella roba su un canale youtube perché cambia da in 15 minuti cambia totalmente tutto ragazzi però in teoria sono un po diciamo indeciso su questa fase perché sto gestendo quell'operazione perché potrebbe anche essere che domani e dopodomani il mercato ritorni sopra zona 50 per qualche giorno a me interessa esattamente quello e poi chiudo tutto quello che devo fare va bene allora invece per quanto riguarda questo grafico andiamo a vedere quelli che sono i possibili target eventuali di questa clause se effettivamente venisse confermato il tutto allora ragazzi dovremmo ci spostiamo sul grafico mensile intanto vi faccio vedere questo indicatore che avevamo visto negli scorsi video vi avevo mostrato come assolutamente il mercato doveva fare nuovi massimi sopra l'ha fatti e poi tornati indietro insomma ragazzi quel mio video famoso dello scenario che mi attendevo per aprire è stato rispettato dal mercato al cento per cento veramente sono molto contento di questa cosa non è sempre facile per i trader dipingere uno scenario così alla lettera veramente ragazzi e vi dico anche francamente non si può neanche operare dipingendo scenari perché poi non è così semplice quindi anche io ovviamente sono uscito nelle mie parti hold ho preso profitto a 57k però non è che l'ho fatto con tutto questo per farvi capire come poi nel trading e negli investimenti bisogna diversificare ogni volta le proprie strategie allora questi sono che vi ho elencato qui i possibili punti di arrivo anche con estensione dell'eventuale ciclo annuale qualora bitcoin decidesse di andare in close annuale e secondo me se decide di farlo lo fa nel mese di maggio a questo punto oppure fa un recupero a maggio e poi va i primi di giugno ma non mi aspetto diciamo un allungamento ciclico così elevato qui ci siamo siamo sul ribasso non credo che il mercato faccia finte per tanto tempo e poi vada in close annuale quindi se lo fa lo fa adesso ragazzi e basta ok questi comunque sono i possibili e target di arrivo da 40 2005 35.000 e 27000 e 5 27005 un eccesso al ribasso io penso che il mercato non vada lì ragazzi ma se ci va è pericolosissimo perché potrebbe essere finita definitivamente la fase dell'hype del ciclo dell'albing e quindi non riuscire più a ritornare ai massimi in questa fase ci vorrà magari un annetto ok questo è fondamentale andarlo a ricordare ovviamente in questa fase ragazzi gestiremo tutto sul canale e staremo sempre collegati quindi io credo che qui non si ci arrivi ve lo dico in maniera chiara però questi sono dei livelli e io vi ho messo dei livelli allora il livello che ritengo più accettabile se dovesse andare poi in a marzo a maggio e 42 barra 35 in questa zona ok qui ci potrebbe anche stare ragazzi il problema è che deve farlo subito nel mese di maggio andare a fare un eventuale close e poi risalire e non mi chiudere assolutamente lì allora questo sarebbe carino assolutamente da vedere fermo restando ragazzi che sono sempre cifre elevatissime per un mercato che ha fatto i numeri stratosferici negli scorsi anni comunque questi target questi teneteli a mente ragazzi ok poi non si può andare a ragionare su queste cose è troppo lontane che distanziano mesi e mesi e mesi ok però questi livelli sono da attenzionare per quanto riguarda tutta questa fase se il mercato non si non recupera a breve quindi in questo momento se io dovessi rispondere alla famosa domanda state qui comunque ragazzi perché adesso c'è il grafico di eth perché vi devo fare vedere una cosa su eth allora se dovessi rispondere alla domanda sell on hold sul mercato io direi entrambi ve lo dico chiaramente ragazzi io non sono monostrategia soprattutto sui mercati cripto e secondo me non dovete esserlo neanche voi dovete dividere entrambe le strategie dedicate una parte del vostro investimento a fare holding sul mercato di bitcoin magari di qualche cripto e che ritenete più accettabile ok però una parte del vostro patrimonio dedicata al trading di medio periodo se breve ovviamente è proprio per traders di meglio periodo ragazzi il medio periodo a 57 è uscito da questo mercato ok io ho un trading system hold a dire la verità che è uscito a 57 ragazzi in questo caso l'ho seguito anche io per quel 20 per cento che vi dicevo prima perché perché il mercato è carico e siamo in fase di close dell'annuale non è che è detto ragazzi che il mercato non recupererà questi livelli però il trader è corretto il trader intelligente l'investitore intelligente divide le strategie ok ragazzi le divide non buttate tutte le uove all'interno di un unico paniere perché non vi fa bene ok se beccate il trend tutti felici tutti contenti però fate entrambe le cose per le strategie di medio periodo dovete essere fuori ragazzi dovate esserlo già da 55 per le strategie e di hold ni ok dipende un po ragazzi io vi posso dire la mia e come roggiano io allora io in questo momento ho preferito prendere una parte di profitto con uno dei miei sistemi che anticipa e mi fa diciamo trovare a vantaggio perché in questo momento io sono a vantaggio visto che sono uscito 10k quasi sopra e sono a posto con quella parte ragazzi poi rientrerò mi interessa neanche se rientro lo stesso prezzo ve lo dico francamente ok per rientrare seguirò sempre quel sistema che abbiamo in academy poi nel momento in cui invece vado a gestire l'altra parte quella è proprio discrezionale ragazzi e quindi la gestirò su un eventuale rimbalzo da qui a marzo a maggio ve lo dico proprio chiaramente se mi fa una gamba rialzista da qui ai primi di maggio gestirò questa fase per uscire con un altro pezzo del mio holding ve lo dico proprio qua ok poi vedrò ovviamente se mi da segnale sempre il mercato ok ragazzi allora questa è una fase delicata fate entrambe le cose hold and sell le posizioni di medio sono fuori le posizioni di breve solo se speculate fate i pazzi in questo momento alcuni sono andati short anche in academy ho visto degli utenti io non lo faccio lo short ragazzi non hanno fatto un bello short sono contentissimo hold decidete con calma chi sta pianificando il piano d'accumulo invece no non c'entra ragazzi perché quella è una strategia completamente diversa molti mi fate questa domanda anzi era scontato che il piano d'accumulo che vi ho mostrato inizio anno subisse queste diverse finestre ragazzi abbiamo beccato tutti i dip con quel piano d'accumulo vi faccio un briefing magari a breve vi faccio vedere tutto quello che è successo proprio quello è un dipinto quel piano d'accumulo che quindi mi raccomando ricordatevi che le strategie non sono le stesse quindi piano d'accumulo è un discorso non potete uscire da un piano d'accumulo però l'accumulo iniziato a gennaio continua per sette anni ok ragazzi non c'entra niente con quello che sono queste strategie qui gestiamo l'hold accumulato nel 2017 2018 ok ragazzi quindi tre anni fa stiamo gestendo quello di lì ok va bene allora e terriamo e terriamo e terriamo e terriamo perché ragazzi io sono stra felice di quello che sta facendo e th perché significativo per tutto il mercato delle cripto in generale anche per questo sono un po più sì ok la fase di ribasso va bene sui mercati però io sono convinto che bitcoin debba ancora dare un po' ancora nella seconda metà dell'anno solo che ovviamente da investitore sto attento però è th ragazzi guardate che grafico che meraviglia allora intanto mi porta a una fase ciclica che avevo già mostrata verso metà maggio e in close sarebbe perfetta con quella configurazione di bitcoin che vi ho fatto vedere e quindi se fa una cosa del genere perché no ragazzi ok mi va a in close mi ritorna in zona 19008 e dopo di che bitcoin in più dell'annuale siamo tutti felici e cose sarebbe bellissimo ma quante forte e th e th ha fatto il massimo nella giornata di ieri ragazzi quanto è bello questo mercato ha recuperato tantissimo anche su bitcoin ovviamente non i massimi perché insomma dista anni luce però è una cripto forte ragazzi ha raggiunto tutti i target che c'eravamo dati ad aprile che era quello dei 2005 la sfondati addirittura arrivato a 2006 ieri toccati poi ritracciato e ancora non abbiamo th 2.0 vedremo delle belle secondo me quando uscirà questa situazione di th 2.0 ok sono molto contento di vedere queste cose nel mercato delle cripto è un po più fiducioso anche dell'intero mercato quando vedo che la regina performa addirittura meglio del re perché no ogni tanto una mano se la danno va bene ragazzi ovviamente è chiaro ragazzi state attenti una fase di cross annuale di bitcoin che le shit coin vi fanno i meno 50 ok quindi ricordatevi queste cose che ciao a tutti e chi non ha capito niente schiene commenti e se avete capito niente se avete capito niente e che che ciao ragazzi